Per secoli abbiamo invocato l'aiuto dell'universo in cerca di risposte. Nel 2024, l'universo risponderà all'appello. Dateci il vostro leader. Ciao, puoi sentirmi? Tesoro, adesso non è il momento. Ok. Ciao, ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Non voglio bene. Questa è nuova. No, no, no. No, grazie! Prego, enunci il nome del suo mondo. Terra? Benvenuto, leader della Terra. Questa è la Confederazione delle Specie Evolute dell'Universo. Deve esserci un malinteso. Lei non è il leader della Terra. Scusi il qui, però qua. Cancellazione memoria. No, fermi! Io sono il leader della Terra. Perché la sua voce è diversa? Ho sempre avuto questa voce, fin da bambino. E ovviamente ora non lo sono più. Ma sì, governo il pianeta. Che il processo alla E-Terra abbia inizio. Oh, oh. Intanto, come dite sulla E-Terra? Ok, ciao, ti voglio bene. Ok, ok, ciao, ti voglio bene. Nel Comuniverso si parla solo di te. Se mamma potesse vedermi. Come ti capisco. Ho inghiottito mia madre appena nato. Ma a ogni mio successo me ne pento. Si usa così tra i due simili? No, è più una cosa mia. Erano tutti sconvolti.